Scatman's World Bella raga, ciao a tutti, vi raccomandone, preziano Siamo alla terza giornata delle Olimpiadi di Rio 2016 Allora, selezione è vinta Non mi ricordo proprio cosa avevo scelto Allora, spettello, skid E getto del peso Ok ragazzi, andiamo Qualificazione del giotto del peso maschile Olympic Stadium E si gode Però forse, visto che non si sente un cazzo dell'audio in game Adesso vediamo se riusciamo a sistemare l'audio Aspetta, no, ah cazzo, non posso Allora, lo facciamo dopo Tutto ora, non mi ricordo niente Allora, ah Allora A cannone Ah oddio, così, ok Vabbè, speriamo Qualification Olimpi Stadium Giornata 3 Getto del peso Brazil Vai 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 Angolo perfetto Yes Arriva la qualificazione, penso 18 e 30 Beh dai, arriva la qualificazione Terzi Cazzo, però pompano tanto, eh Mamma mia, sono fortissimi Dai, 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 dai Eh, non un gran tiro Vai In realtà miglioriamo, 19 e 4 Sì, sì, la qualificazione è nostra, raga Terzo posto blindato Però che sboccio La Spagna vola, cazzo Dai come Angolo giusto Eh, però stiamo migliorando sempre di più 19 e 56 Buono, buono Siamo sempre terzi, però Vai, come Sono il Brasile perché voglio omaggiare la squadra di casa Ma ci sarà anche l'Italia, chiaramente Perfetto Da foto, ciao Blau Job, come 21 e 5 1st position L'importante è farlo anche in finale Però Oggi penso che con Skid Che è un po' lunghezza Faremo solo una giornata Oggi E ci siamo, eh Ragazzi Ciao ragazzi Qua puntiamo 22 e 10 Nuovo primato individuale Qua possiamo fare la medaglia d'oro, eh ragazzi Vabbè L'importante è non sbagliare In finale però ragazzi Vabbè 22 e 10 Record personale Di Caud e Oliveira Siamo in finale ragazzi Siamo in finale con Australia, Spagna e Polonia Stati Uniti Incredibilmente fuori Stati Uniti non sta andando tanto bene Piattello Skid Piattello Skid Il tuo primato individuale 200 metri maschile 19 e 94 Ok Tutorial Ah così Ok Mamma mia Sarà durissimo Piattello Skid maschile The Royal Artillery Barracks Ok Nicolas Palmeira Bell'uomo Go Yes Eh qua è difficilissimo ragazzi Eh È bellissimo Skid È stupendo Yes Blau Job Kume Blau Che tensione ragazzi Siamo partiti alla grande Ricordo che è livello massimo Raga Me lo dà? Siamo partiti bene Cazzo Ma non volere niente Fiori È in finale che conta Comunque Intanto arriviamoci In finale Poi vediamo Ma per il fine Non ha percorso netto Per il veneziano Per il momento Percorso netto Per il Cume Mamma mia Messico è là Anche il Messico Buono Buono Chiaramente Pesano meno Quei piatelli Rispetto alla finale Ma intanto Concentriamoci su questo Mamma mia Mamma mia Come stiamo tirando Ragazzi Come non ha perso l'occhio Per questi sport Per il momento No Nooo 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 Buono 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 Ma non ha perso l'occhio Ma non ha perso l'occhio Ma non ha perso l'occhio Blau 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 Ultimo Stazione 8 Buono Nooo Che somaro Comunque andiamo secondi Passiamo con Nuova Zelanda Messico E Cechia Repubblica Cechia Finali Giatto del peso Atletica Campo Madonna Quanto amo Giochi di Olimpiadi Ragazzi Vai La finale Vediamo Pericolosa Può essere La Francia E la Polonia Secondo me Lo lasciamo favoriti Qua ragazzi Ho fatto delle qualificazioni Strepitose Perfetto Mettiamo subito In cassaforte Un gran tiro Cazzo 21 e 11 Secondi Corea Incredibilmente Cazzo Francia Polonia Quarta Quinta Possiamo fare meglio No ho sbagliato Che coglione Errore Comendiano Calma Vedi la finale È già diversa Poteva andare meglio Vediamo Però non hai detto Vai Porca Troia Sapevo che in finale C'è tensione Terzo Madonna ragazzi È difficilissimo Sprofondiamo terzi Vediamo Vediamo Yes Yes 22 22 61 Record olimpico E vaffanculo E qua ci becchiamo l'oro Ragazzi Eh ragazzi Il peso sono cazzi Se vediamo che la serie piace Voglio farlo così con un po' di nazionali Se poi la serie va bene Piace Vi gasate Posso fare proprio quella completa Con tutte le discipline Devastante Ve lo dico Con l'albo d'oro Fatto dal Q Vai Eh sono tranquillo È difficile È un record olimpico È difficile che me lo portino via E arriva l'oro Al 99% Yes Una di Olivera Ci porta a casa Il primo posto Guardatelo Grandissimo oro Seconda Austria Terza Corea Incredibile L'Austria Complimenti all'Austria Buono Buono Cerimonia medaglie Adesso devo fare bene Che è lo skip Con due ori Siamo primi ragazzi Tutte le altre Sono ferme Perché chiaramente Ci sono Come totale Lo stesso Sono fortunato Perché tante nazioni Stanno prendendo medaglie E quindi Non ce n'è una Che sta spiccando Più delle altre Quindi con due ori Per il momento Mi basta Per essere primo The Royal Heartley Berks In inglese Purofia Concentration Concentration Qua è dura Non siamo favoriti Per loro Vai Occhio Stati Uniti Dio Pontus Brutto errore Questo Posso sbagliare la stazione M1 Dio Cristo Niente Dio Cristo Siamo partiti Malissimo Porca puttana Cuma Ragazzi L'ho detto Io non ho Ogni sessione È diversa Dall'altra Calma Calma Possiamo ritornare In corsa Tranquillamente Ok Yes Grande kuma Terzi Bravo kuma Fantastico Bravo kuma Bravo Peccato per la prima stazione Cazzo ero in fuga Puttana Troia Ma vara Tutto perfetto Se non sbagliare la prima stazione Mamma come sto tirando adesso Questo è importantissimo Per recuperare la prima stazione Yes Recuperato la prima stazione Siamo secondi Negli Stati Uniti Stanno crollando Incredibile Stanno cagando In storie L'Olimpiade No Somaro Brutto errore Grande kuma Grande kuma Secondi Secondi Grande Comunque non farò solo le discipline dove sono bravo Le voglio provare tutte con questa modalità qua Così da non Come si dice Fare le doppie troppe volte Ecco lo sapevo Uno su due Kumeno Due piattelli di svantaggio Nooo Sono andato come un Pippone Dai non voglio anche giusto la classifica Bravo Dai meno per l'argento sicuro Bravo Almeno l'argento è sicuro Vediamo se ha sbagliato il porco del messicano Yes Ancora oro Il Messico è crollato Da A pari merito Grande kuma Grandissima giornata olimpica ragazzi Giornata olimpica meravigliosa Buono buono Tre ori un bronzo Un oro per Nuova Zelanda Norvegia Stati Uniti E Portogallo Austria un argento Un bronzo E poi via via Tutte le altre Purtroppo l'Italia Ancora fuori dai giochi Per il momento Con zero medaglia all'attivo Ok raga Allora Per la prossima giornata Che speriamo nel prossimo video Facciamo Beach Volley sicuro E trampolino Tre metri Raga Un saluto nel comendone Veneziano Ciao 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 Grazie a tutti.